con il dialogo anzi allora oggi partiamo da qua subito allora prima di parlare con Cristian del pensiero di Cristian post partita Monza Roma questo Bryton Roma Bryton io volevo partire da qui ragazzi io volevo partire da da Zibi Boniac che oggi interviene a citiamo la fonte a Teleradio Stereo a te la do io Tokyo da Marione citiamo la fonte sempre e diciamo quello che che ha detto che ha detto scusate eh che sto trovando un attimino eccolo no no dove me le mandate per favore c'era proprio il pezzo un pezzo dove c'era scritto tutto allora 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 cazzo ragazzi dove dove me l'hanno mandata eccola qua eccola qua eccola qua allora Zibi Boniac finalmente non siamo più al guinsaglio col sorriso la Roma ha ritrovato la serietà e la felicità siamo una squadra seria che gioca bene e non protesta più qualcuno diceva che i giocatori della Roma erano tutte pippe intanto secondo me dovevi anche dire dirlo alla radio dove si è intervenuto perché quella radio là fino a qualche settimana fa vi diceva che erano tutte pippe i giocatori della Roma qualcuno diceva che i giocatori della Roma erano tutte pippe e che i campioni venivano solo per Murigno che i sold out erano solo per lui non è vero per quanto io lo ammiri quante volte quante volte mi avete sentito dire che ragazzi i giocatori arrivavano prima di Murigno ma mica eravamo spezia voi stavate in tanti stavate sotto effetto dei ipnosi eravate ipnotizzati e qualsiasi cosa che diceva Murigno se Murigno vi diceva che noi eravamo una squadra di merda voi ci credevate che a Roma non venivano i giocatori perché o dicevano pure amici miei in privato perché Di Bala ha portato Murigno tutte queste cazzate qua ci dicevo ragazzi sono cazzate ma vi rendete conto però vabbè passava sto messaggio guardate De Rossi che abbraccia Di Bala una scena che mi ha fatto piangere se prima venivano per Mu oggi verrebbero per De Rossi se Murigno era al Frosinone mica andavano là vengono per la Roma perché è una società seria seria e soprattutto che caccia i soldini ok poi insiste il tecnico portoghese è stato bravo ci siamo ci siamo siamo stati innamorati ma lui pensava ci fosse il vuoto dopo di lui e non è così se un amore non funziona prima finisce meglio è per tutti Mancini prima era nefrastenico oggi lo vedo più sereno Pellegrini lo stesso e non dite che giocava contro l'allenatore un giocatore giocava solo per se stesso oggi è gestito meglio quel nervosismo passato dalla panchina arrivava anche in campo De Rossi ha tutto per diventare un grande è intelligente bravo parla semplice e non è invidioso dei giocatori e soprattutto aggiungo io li mette al centro del progetto poi chiaro che ci vogliono i campioni per vincere spero diventi il Fergus della Roma infine sul Brighton la Roma è favorita la squadra di De Zerbi Vale e il Torino hanno iniziato bene ma ora sono calati Di Bala ancora nemmeno e al 100% può fare cose incredibili allora ragazzi chiudo qui perché Boniak è una persona coi coglioni è una persona innanzitutto è stato non so per i peggiori non lo conoscete ma è stato un grandissimo campione dell'epoca degli anni 80 della Juventus con Platini è venuto a giocare alla Roma ha sfiorato lo scudetto con la Roma ha vinto la Coppa Italia con la Roma e lui è rimasto folgorato innamorato della Roma tant'è che ne è diventato proprio tifoso e credo che si è proprio trasferito ma è stato è un'icona anche del calcio europeo presidente della nazionale polacca e niente ragazzi Zibi Boniak che è un uomo libero un uomo libero vi ha detto per file e per segno oggi quello che vi ho sempre detto io Cristian e altri pochi persone quel 2% libero che non doveva leccare il culo ai difusi ma che vedeva giudicava ascoltava e magari sapeva per qualche notizia quello che era evidente e quello che invece non hanno fatto tanti perché capiscono un cazzo di calcio proprio dovrebbero proprio accannare e a voi i microfoni vi dovrebbero dare quasi i detti per i danni che fate e quell'altro lo sai perché perché siete impostori e che qualcuno secondo me ce capisce lo sapeva pure però è impostore lecca culo e non ce la faceva comunque chiudiamola qua sono contento che anche Zibi Boniak che veramente io vorrei in società io un uomo così lo dico lo dico lo voglio in società perché è un uno libero un grande professionista una persona di calcio un grande uomo io lo voglio nella Roma una persona che voglia la Roma Freckin portatelo alla Roma però adesso c'è Stallina io non credo che possa gozzare il ruolo di Boniak Collina comunque Cristiano vai dimmi il tuo pensiero un pochino su tutta la situazione la partita anche Monza-Roma la situazione Brighton un pochino fammi il tuo monologo allora innanzitutto una Roma una prova di maturità della Roma Monza eccellente temevo un po' questa partita perché comunque Monza stava molto bene perché comunque era una trasferta noi in trasferta siamo stati abituati a vincere col contagocce e poi perché comunque cominciano ad essere parecchie le partite ravvicinate e quindi magari anche giocatori che hanno sempre sofferto vedi di bala ad esempio di infortuni o comunque di prestazioni che non potevano essere replicate ogni tre giorni e invece la Roma hanno fatto probabilmente la migliore prestazione sui 90 minuti da quando c'è De Rossi secondo me la condizione fisica sta migliorando e questo abbiamo sempre detto che era il tallone d'Achille di questa squadra io credo che oggettivamente io non so se De Rossi diventerà un grande allenatore ma di sicuro so che l'ultimo Murigno cioè il Murigno degli ultimi cinque anni è un pessimo allenatore perché comunque se tu tieni i giocatori con quella condizione fisica nel calcio moderno non vinci mai poi per carità secondo me la condizione fisica deriva anche dalla testa se tu al giocatore non lo invogli ad allenarsi già fai poco quel poco che lo fai fai male e quindi per me l'ultimo e sottolineo l'ultimo Murigno cioè quello dei cinque esoneri di fila è un allenatore scarso punto che ha vinto una conference league con la squadra nettamente più forte e che per motivi planetari si è ritrovato in finale non meritando dell'Europa League e poi la finale è stata rubata quello lo sappiamo ma in linea generale lui ha dimostrato di essere un allenatore scarso e lo sto vedendo sempre di più lo sto vedendo nella gestione con De Rossi hanno giocato tutti i giocatori tutti anche i bambini anche quelli che avevano paura della mamma quando andavano in trasferta eppure stanno rendendo tutti al meglio quindi è evidente la differenza tra un allenatore che ha fatto la storia del calcio con Mourinho ma che negli ultimi anni è un allenatore che non è più adatto al calcio moderno detto questo ho visto tanti miglioramenti anche di gestione della partita De Rossi ha dimostrato di avere dei principi e delle funzioni che si adattano benissimo anche a questa squadra nonostante abbia delle mancanze riuscire a switchare tra 4 e 3 dà una grande flessibilità a questa squadra a me piace più quando gioca a 4 a me piace più De Rossi quando imposta la partita a 4 però lui riesce a farla rendere anche a 3 nonostante ripeto questa Roma non sia prettamente costruita per sfruttare la difesa a 3 perché non c'ha fondamentalmente giocatori di gamba sulla fascia e abbiamo visto anche a Angelinho le sue qualità ma anche i suoi limiti Roma Brighton allora attenzione a sottovalutare il Brighton il Brighton non è il Manchester City ma è una squadra che ha un'identità e che sta soffrendo tanto gli impegni ravvicinati e i molti infortuni il Brighton ha 3-4 giocatori molto forti gli sono venuti a mancare quasi tutti giocando ogni tre giorni con squadre in Inghilterra che non puoi mettere tra virgolette in preventivo che tu vinci perché tu vai a vai a Londra giochi contro il Fulham pure che il quindicesimo se non giochi al 100% ti fanno una caboccia così perché i loro ritmi non pretendono non ti danno la possibilità come diceva giustamente Conte in Italia stai 1-0 2-0 la partita la porti quasi sempre a casa in Inghilterra se stai 2-0 manca mezz'ora se smetti di giocar te fanno una testa così perché l'impostazione tattica fisica e di qualità di quel campionato non ti permette di stare mai tranquillo quindi sicuramente abbiamo la fortuna di affrontare il Brighton in un momento di calo di questa squadra ripeto non tanto dovuta alla mancanza di idea dell'allenatore ma dovuto al fatto che la rosa è ristretta è una rosa fondamentalmente da quindicesimo posto e il Brighton invece De Zerbi l'ha portata in Europa sono fiducioso perché comunque secondo me la Roma al completo contro questo Brighton è nettamente più forte però la Roma non se la porta da casa e la Roma non deve ripetere gli errori che ha fatto in qualche partita difensivi perché il Brighton è una squadra comunque che ti può far male ad oggi vedo la Roma 60-40 anche 65-35 proprio perché ad esempio Mitoma era la loro punta di diamante e non ci sarà né all'andata né al ritorno però De Zerbi è forte che anche chi lo denigra deve capire che il Brighton lotta quanto al manicomio Cristiana quanto sento di quando prendono per il culo De Zerbi l'uomo fanta il calcio quello moderno quanto mi rode il culo perché veramente parla possono parlare tutti di calcio tutti di calcio senza capire un calcio un cazzo di calcio di calcio veramente fatemi passare il gioco di parole non capisce un cazzo nessuno De Zerbi tanto come quando io su TikTok faccio il TikTok e dico che Calafiori Calafiori era dieci volte bove ma no su ruoli diversi ma come forza di calciatore ecco fra un po' Calafiori andrà in nazionale maggiore fra pochissimo a breve Calafiori già costa 40 milioni d'euro e ce so United Milan Inter e mi prendevano un giro mi prendevano un giro con Tiago Motta e il Tiago Motta Milan Juventus via discorrendo De Zerbi quale tanto mancherà poco che De Zerbi andrà a un top club così non rompete più i coglioni capito che gente che non ha visione che gli serve che ha vinto e che ha vinto e grazie al cazzo che ha vinto allenata il Sassuolo allenata il Brighton vuoi vincere con il Brighton Premier League il Brighton non ha mai fatto le coppe europee in vita sua vuoi vincere con il Brighton ma tu devi quello che ha fatto lui andare in Europa con il Brighton per la prima volta nella storia portarla subito agli ottavi già vinto già vinto stare nella parte sinistra della classifica il Brighton già vinto già vinto ignoranti scusa Cristiano hai detto hai sintetizzato il mio discorso nel senso che comunque se andiamo a vedere la rosa del Brighton non è una rosa troppo più forte della Fiorentina del Torino però so squadre che hanno talmente tanti principi di gioco moderni che ti danno fastidio quindi l'ho detto all'inizio a parte che anche il Torino ci ha dato fastidio a noi quindi non è che dire so come il Torino non è che siamo molto ragazzi ci sarà bene anche il Torino e tutto quanto al completo il Brighton è più forte il Brighton che va a dominare tante volte con un Liverpool di turno ragazzi il Brighton è una realtà poi non si può giudicare De Zerbi per un tiro De Zerbi si potrà giudicare per i titoli se andrà a allenare il Liverpool il Bayern Monaco e allora si giudicherà per me per me è un allenatore un grande allenatore a me mi prenderebbe un colpo se va al Milan perché io tutti quanti i tifosi del Milan io su controcalcio vogliono Conte e io gli ho detto ragazzi secondo me il Milan per quello che vorrebbe fare il Milan e per come ho capito ragazzi per me il Milan se prende De Zerbi io preferirei prendere De Zerbi che Antonio Conte però questa è una mia visione delle cose non voglio convincere nessuno in ultimo Ale possiamo aggiungere che la Roma comunque ha una tradizione in Europa e una esperienza in Europa maggiore rispetto al Brighton quindi io sono fiducioso però ripeto anche con tante defezioni il Brighton è una squadra vericolosa bisogna fare attenzione in difesa perché loro la possibilità di segnare lo hanno sempre dimostrato anche con squadre più forti della Roma ce l'hanno anche ripeto mancando gli dei giocatori che sono veramente fondamentali e pensate se una squadra come la Fiorentina che sta settima ottava in classifica gli cominciano a mancare Beltran Belotti Nico Gonzales lui nonostante questo sta non in classifica sta sopra il Chelsea ad esempio che è una squadra che non so quanti soldi abbia investito quindi massima massima attenzione poi su Daniele De Rossi io credo che l'abbiamo detto sta facendo uno score di punti devastante ha rimesso la Roma al quinto posto nonostante la quarta e la quinta praticamente hanno sempre vinto tranne l'Atalanta le ultime due quindi non è che ha recuperato i punti perché le altre le hanno persi Bologna ha vinto sempre 6 partite su 6 la Roma ha recuperato punti sul Napoli sulla Fiorentina sulla Lazio e ha distaccato tutti quelle che non ha potuto riprendere perché hanno vinto sempre pure loro Bologna è una cosa incredibile comunque ragazzi la dimensione del Brydon lo fanno anche i maxi schermi che metteranno giovedì a Brydon per loro è un evento ragazzi la Roma è un club importante abituato a fare le coppe sempre come dice Murigno che ci aveva preso che eravamo uvo spezia la Roma fa sempre le coppe poche volte nella storia non ha fatto le coppe no Cristian io me la ricordo veramente poche volte non fare le coppe la Roma ma la Roma è abituata tutti i anni a fare le coppe e più di qualche volta è arrivata pure in fondo perché più di qualche volta è arrivata anche in fondo perciò la Roma ha un club molto più preparato con più storia e giocatori con più esperienza però come dici te è una partita che va presa che molle perché questi si imbroccano la partita sono capace pure di umiliare di umiliarti però hanno tante assenze anche io vedo una Roma favorita ma siamo attenti una cosa ho detto qui però se passa sono contento a Roma per carità vorrei vorrei che la Roma comunque passasse sto turno però si esce e non farei una tragedia nel senso la prenderei in un modo positivo e dire vabbè regà ormai è inutile pensiamo a sto campionato abbiamo la possibilità una partita a settimana e andiamo in Champions anche perché ormai la Champions è diventata possibile sì io ti dico la verità io tranne con la Lazio perché non riesco proprio a attifare la Lazio però se le squadre italiane dovessero andare quasi tutte ai quarti e lì poi le possibilità di avere il quinto posto a disposizione diventano tantissime quindi parliamoci chiaro forza Inter dal punto di vista europeo Fiorentina Roma Milan Atalanta anche se poi ne ha scontato neanche arriva a quinti perché l'Atalanta sta là e il Napoli io ho una paura del Napoli Cristiano non puoi capire guarda io sul Napoli sinceramente allora se il Napoli recupera quattro punti alla Roma la Roma comunque in Champions non ci sarebbe andata a prescinde perché la Roma in questo momento deve fare almeno i stessi punti del Napoli da qui in avanti se vuole andare in Champions quindi se te recupera cinque punti perché poi c'è pure lo sconto diretto a fuori cinque punti il Napoli fondamentalmente vuol dire che secondo me non hai fatto le ultime undici giornate come le potevi fare se la Roma fa settanta punti io credo che il quinto posto io ti dico la vitale per me la Roma arriva quinta e sarà fondamentale il piazzamento perché il Bologna se vedi il calendario la prossima c'ha l'Inter che credo farà giocare la terza squadra che è sempre forte però regà se tu dopo quattro giorni c'è una partita a Madrid importante ma chi va in campo è così dopodiché c'ha quattro squadre che sì alcune stanno lottando per la salvezza ma se tu dovessi fare risultato con l'Inter e quelle quattro partite con una squadra forte perché Bologna è oggettivamente forte gioca bene i giocatori non si è infortuni se quelli fanno le prossime quattro almeno tre vittorie in pareggio ma quando gli recuperi tutti questi punti è difficile mentre il quinto posto io vedo l'Atalanta che è comunque una squadra da 66-67 punti quello è 68 ne può fare il Napoli sì ce l'ho vero che può fare quei punti ma la Roma se fa 70 punti per me arriva quinta e quindi è decisivo avere il quinto posto ma questo per tutti l'Atalanta la Fiorentina la Roma il Napoli quelle specialmente Europa League e Conference League che parliamoci chiaro sono favorite perché la Roma è favorita col Brydon poi non è 80-20 sarà 60-40 ma il Milan passa l'Atalanta è 55-45 tutte quante sanno che il quinto posto sarà decisivo quindi per me calcoli matematici proveranno tutti a andare ai quarti se l'Italia porta facciamo conto che esce la Lazio esce il Napoli ma porta l'Inter Roma, Atalanta Milan e Fiorentina ai quarti io mi sono fatto dei calcoli non ti dico che al 100% il quinto posto c'è ma poi basta portarne due in semifinale e per me la Fiorentina in conferenza in Libia ci può andare se vanno avanti anche Milan Roma-Atalanta rischi pure che si incontrano una dei due e quindi va in semifinale e alla fine il quinto posto sarà decisivo per me la Roma deve andare avanti adesso insieme agli italiani perché deve assicurarsi il quinto posto perché col quinto posto mi sento molto più tranquillo col quarto con questo Bologna con questo calendario senza coppe è molto difficile perché ci hanno in questo momento un calendario veramente favorevole e vai no col vento in poppa se su cinque partite permetti che fai anche quattro pareggi e una vittoria scusa quattro vittorie e un pareggio punti poi tu c'hai scontri diretti devi vincere tutti i scontri diretti la quota la quota da Champions rischia di essere 72 o per fare 72 punti però si deve fare un girone a meno che il Bologna anche certo le vittorie del Bologna all'Olimpico con la Lazio a Bergamo Catalanta e se ma anche un pareggio prende con l'Inter ha fatto ha fatto una cosa perché la squadra che però occhio che però la squadra come il Bologna magari potrebbe prendere proprio perde quei punti là occhio io ripeto per me io quando ho detto per me il Bologna è fuori dal quarto posto ma hanno insultato tutti tra amici quelli arrivano settimi crollano il problema qual è è che se tu c'hai l'allenatore che ti dai principi del gioco perché dovresti crollare per tanti infortuni ma giocano poche partite quindi perché si dovrebbero fa male perché comunque c'hai un calendario favorevole e con le grandi hai sempre perso no perché questi hanno vinto pure quei grandi ma poi c'hanno la squadra forte Ale c'hanno la squadra per arrivare quinti-sesti il problema è che a Roma hanno fatto generandata da decimo posto perché se tu fai 78 punti ma se Roma e Napoli partivano prima Roma e Napoli stavano stavano vicino a Milan a Milan Juventus e a Milan Juventus e il Bologna come dici te Cristian era sesto e invece quella è la loro dimensione come le altre comunque ragazzi dialogo terminato eh a a a a a